Tutti i materiali, subito dopo la loro fabbricazione, iniziano a ossidare e invecchiare, ed il degrado estetico è conseguenza del degrado tecnico, dell'invecchiamento e dell'ossidazione. Ed i materiali di ultima generazione invecchiano e si rovinano sempre più velocemente, perché sono fabbricati con una percentuale sempre minore di materia primavergine e una percentuale sempre più elevata di materiale riciclato. I materiali derivati dal petrolio, come la gomma, la plastica o materiali con resine, ossidano, invecchiano e perdono più velocemente le caratteristiche costruttive iniziali. Gli innovativi, italiani, unici e prevettati, prodotti Black Traction, multifunzione, si differenziano da tutti i prodotti concorrenti, che rimangono solo in superficie, perché sono formulati per essere assorbiti dai materiali, per integrare per assorbimento i componenti persi con l'ossidazione e l'invecchiamento. Così, il miglioramento estetico che si ottiene, è conseguente, al miglioramento tecnico che l'applicazione dei prodotti Black Traction genera sui materiali. Per questa caratteristica unica, ti garantiscono, la più lunga durata d'effetto di rinnovo e protezione, mai ottenuta prima da nessun altro prodotto concorrente, perché sono gli unici prodotti per rinnovare e mantenere, garantiti, senza silicone, senza cere e soprattutto senza corrosivi, in grado di documentarti la più lunga durata d'effetto, superando, prove di resistenza, a detergenti aggressivi e solventi, che nessun altro prodotto rinnovatore concorrente, può dimostrarvi di poter superare, perché tutti i prodotti concorrenti, rimangono solo in superficie, e sono a base, silicone o cera. E sono adatti a rinnovare, al meglio possibile, il colore e l'aspetto originale, e le caratteristiche tecniche costruttive, di plastica, e molti derivati, PVC, neoprene, vernici senza protezione, alluminio, rame, leghe, gomma, fibre di carbonio, zincati, e molti derivati, ma soprattutto, hanno finitura, protettiva, dall'ossidazione, dall'invecchiamento, e dall'assorbimento di agenti macchianti, con la più lunga durata d'effetto, mai ottenuta prima da nessun altro prodotto concorrente, per stabilizzare, il più a lungo possibile, l'effetto di rinnovo ottenuto, con l'applicazione dei prodotti Black Traction, dimostrata, superando, prove di resistenza, a detergenti aggressivi e solventi, che nessun altro prodotto rinnovatore concorrente, può dimostrarvi di poter superare, perché tutti i prodotti concorrenti, rimangono solo in superficie, e sono a base, silicone, o cera. I prodotti Black Traction, sono multifunzione, perché rinnovano, diversi tipi di materiali, e semplicemente cambiando metodo applicativo, permettono di risolvere, differenti problematiche, su differenti tipi di materiali, e danno anche, elevatissime proprietà sgrassanti, per pulire i materiali, da sporco assorbito, e residui di altri prodotti assorbiti, impossibili da togliere senza sbiancare la plastica, senza RS o RS bianco Black Traction, e contemporaneamente, rinnovano e proteggono, al meglio possibile, l'aspetto originale, per moltissimi mesi, con una sola applicazione, ed hanno elevate caratteristiche antiossidanti, che permette di bloccare, per moltissimo tempo, con una sola applicazione, anche l'ossidazione dei metalli, e la ruggine, con la più lunga durata d'effetto, mai ottenuta prima, da nessun altro prodotto, o sistema concorrente, ed hanno una resa media, di circa, 15-20 metri quadrati, per litro di prodotto, variabile, conseguentemente, alla porosità, e allo stato di degrado, del materiale, sul quale vengono applicati. Le varianti dei prodotti, con aggiunto a un pigmento nero o grigio, hanno uguali caratteristiche di resistenza, su plastica nera e pelle nera, o plastica grigia, e servono a coprire, al meglio possibile, le indelebili imperfezioni estetiche della plastica, causate, da prodotti corrosivi, o da elevate fonti di calore, oppure su parti, verniciate, ma arrugginite, per bloccare la ruggine, senza dover bonificare a fondo, e contemporaneamente rinnovare, vernice nera o grigio scura, senza possibilità di distaccarsi, come quando si vernice sopra un convertitore, perché il prodotto viene assorbito, sia dalla ruggine che dalla vernice. Queste caratteristiche dei prodotti Black Traction, li rendono, gli unici prodotti, convenienti per rinnovare, perché il rinnovo, è conveniente solo se ha una lunga durata d'effetto, equiparabile ad una sostituzione, ma ad un corto molto minore, e quando l'effetto di rinnovo termina, non lasciano quei bruttissimi residui bianchi, di silicone o cera, difficili da pulire, senza sbiancare i materiali, perché, solo i prodotti Black Traction, sono garantiti, senza silicone, senza cera, e soprattutto, senza corrosivi che rovinano i materiali. I prodotti Black Traction, per aumentare, rinnovare e mantenere, l'aderenza degli pneumatici e l'elasticità della gomma, sono gli unici, a documentare, il miglioramento che puoi ottenere, con la loro applicazione, con prove comparative di frenata su strada, e con dati acquisiti, con sofisticati e precisi strumenti di misura, durante prove e test in pista, e durante prove in collaborazione, con gli studenti di ingegneria, dell'Università Enzadino Ferrari di Modena. I prodotti Black Traction, sono italiani e brevettati, con caratteristiche uniche, che non puoi trovare, in nessun altro prodotto concorrente, e nascono, dall'esperienza maturata, in oltre 35 anni di collaborazioni, nella ricerca e sviluppo tecnologico, nelle competizioni mondiali, di auto e moto, permettono di allungare la vita dei materiali, ma soprattutto, convenienza e risparmio, per chi li utilizza. Grazie a tutti!